E' finito il campare in via Tortona e non sapendo più a che Cristi appellarmi, Cristian De Orr, Cristian Password, ho deciso che Maometto è l'unica mia e quindi per voi. Noi preghiamo uno dei muezzim quotidiani, delle cinque preghiere, le cinque mestere, ma no, con rispetto parlando. L'altra volta all'alba, salmaiek, dragmi tu elm, salmaiimi, Omar Sharif, attimo bene il rif. Aspetta un attimo, ok. Tariana grande, levati le butande.